è partita regolarmente anche la batteria numero 3 stiamo per indagare la scuola che è la scuola con l'alentrino finale ricordiamo che a prescindere dal piazzamento all'interno della propria batteria ci conta alcuni per la scuola e il tempo è che sarà un'alentrino di tutti i migliori delle parti di tutte le batterie a proseguire nell'eserimento della gara siamo alle basi conclusive il tempo di ritenimento per questa batteria è di 31,64 21,64